Placidiano visita pellegrinaggio oggi all'antico monastero di San Placido Calonerò, attualmente sede dell'istituto agravio Pietro Cuppari. Nella mattinata verrà celebrata la Santa Messa alla presenza di una reliquia di San Placido. Nel pomeriggio i pellegrini alla guida dello storico Franz Riccobono avranno modo di visitare le limitrofe chiese parrocchiali di San Paolo a Briga Marina e di San Mauro a Giampilieri Marina che custodiscono significative tracce dell'antico culto a San Placido.